Grazie No, lo accetto perché è un bellissimo omaggio al momento più bello della mia vita che è stata la mia giovinezza e gran parte della mia giovinezza l'ho trasporsa qua quando incominci a condividere con gli amici, l'aggregazione, è molto importante, è stato un momento di formazione Grazie Grazie Buongiorno a tutti i presenti nella sala consigliata di Villa Agostini Farsi a inizio la cerimonia per il conferimento della cittadinanza orale della cittadinanza al maestro Carlo Verdone salutiamo e diamo il benvenuto al maestro Carlo Verdone Grazie Applausi 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 Ho un'idea che parte da lontano, che abbiamo avuto leggendo i vari messaggi, i libri, tutte le attestazioni di affetto che è rivolto alla nostra città io vi ringraziamo per essere qui con l'entusiasmo di tanta gente che come hanno accorto questa nostra iniziativa ti garantisco la città l'ha accorta con un entusiasmo veramente grande perché probabilmente l'affetto che tu hai dimostrato per la nostra città è stato da tutti compreso e ti garantisco e garantisco che tutto che hanno sanzionato c'è che tutto questo affetto che tu ci hai dato la città te lo ricambia veramente con affetto e sincerità Grazie Applausi 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 personale ed emozionante album di ricordi porto francesi, raccontati in modo inedito e con nostalgia e entusiasmo, per aver promosso la città di Anzio nell'ambito di importanti circuiti artistici e culturali, Anzio 30 agosto 2020. Cittadino di Anzio, per il grande amore dimostrando verso la città scenografia della sua libera giovinizia. Grazie a tutti. A tutti coloro che hanno preso possibile questa bellissima giornata che resterà nei miei ricordi per sempre. Allora, io sono legato molto ad Anzio, per tanti motivi, poi questa sera nella chiacchierata del pubblico lo dirò meglio. Perché per me Anzio è importante? È importante perché mi ha fatto capire il valore di alcune cose, per esempio l'amicizia. Io l'amicizia che ho fatto qui, sono state tante, chiaramente non tutte riescono poi ad avere un arco lungo di tempo, la naturale, però non le resistono ancora. E sono persone brave, oneste. E' stato veramente, sono anch'io un punto molto emozionato, perché sento veramente una partecipazione della autentica e quindi ti ringrazio di cuore perché mi fai tornare a Roma veramente felice. Grazie. 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 Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.